La quinta verità Papa Francesco parla della comunione dei santi, credo la comunione dei santi. Io c'ho nel cuore una frase bellissima di padre Congar, che è sempre stato un po' un compagno di viaggio nello studio della teologia, che dice così, dinanzi ad un mondo che non ammette più il Vangelo, se non presentato da una Chiesa irreprensibile, non ci si può più permettere nulla di meccanico che i secoli della fede avevano preparato alla Chiesa. A me colpisce perché per padre Congar rimanere fedeli non è sopravvivere, ma è contestare in maniera rischiosa e anche paziente per fare in modo che la tradizione abbia un futuro. Ora, uno dei quattro punti che lui individua per non rompere con la Chiesa è la comunione con la Chiesa. Come si fa a legare l'esigenza della comunione con l'esigenza anche dell'andare in missione? Don Tonino Bello diceva non c'è fedeltà se non c'è il rischio. Come si fa a non strappare dentro la Chiesa? Penso a Don Milani, penso a Don Mazzolari, penso a quanti, a padre Congar stesso che ha sofferto per la Chiesa, ma anche a causa della Chiesa. Ma torniamo alla famiglia, eh? Se tua nonna, tua mamma, tuo papà avessero presso tutte le sicurezze su di te, devi, 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 tu non sarai stato qui oggi. È vero? Perché non sarei stato capace di rischiare. Tu hai rischiato e loro ti hanno lasciato rischiare. Aiutare a crescere una persona è aiutarla a crescere nella libertà. E la libertà, per essere libero, ci vuole la capacità di rischiare. Per fare l'unità della famiglia, tante volte è necessario fare il figlio prodigo. Tante volte, non dico sempre, ma o almeno qualche avventura di figlio prodigo. Rischiare, andare oltre. Io non voglio dire che per essere un buon cristiano è necessario pecare. No, questo è peccato. Se dico io, non è vero inganno. Ma Dio che ci ama. Anche i santi più santi, penso alla mia amica Teressina Albamin Gesù, non le ha tolto la libertà. Lei poteva pecare. Ai santi più santi non mai ha tolto la libertà. Per essere un buon cristiano è necessario rischiare. Rischiare significa andare avanti. Non solo le persone rischiano, anche le istituzioni. La Chiesa tante volte nella pastorale rischia un po', vede e poi torna, va cercando. La comunità ecclesiale è un po', non so come si diceva, ma è un po', in francese possiamo dire, tattoneggia, no? Va a tentoni. Tattoni proprio, no? La Chiesa, perché dal contrario non si cresce. Se i bambini non facessero diavolerie non sarebbero capaci di crescere. E questo nel rischio c'è anche la possibilità di crescere. Non si può crescere bene, armonicamente, senza libertà. E Dio con noi ci fa crescere con la libertà. Sempre. E la Chiesa cresce così. E per questo si capisce che nella Chiesa ci sia il peccato, ci siano degli scandali. Perché alcuni rischiano e sono sconfitti e diventano sconfitti nella vita così. Rischiare. E anche papà e mamma devono sapere come far rischiare, no? I bambini con sicurezza, no? I figli. Come camminare per passare un fiume di montagna da una parte all'altra, no? Tu vai su una pietra, stai sicuro qui, una volta che ha un piede di sicuro qui, metti il piede sull'altra pietra e quando è sicuro lì, dagli il passo, no? Rischiare. E c'è il rischio che scivoli e... C'è una domanda che portano il cuore da quando tu sei diventato Papa. Perché nella Chiesa ci sono due grandi estremi. L'istituzione e il carisma. La città del Vaticano e un carcere del nord-est d'Italia. E la tua storia stessa è la storia di un sacerdote che ha vissuto nelle Villas, Argentine, e adesso si trova ad essere il successore di Pietro. E, è vero, all'istituzione viene chiesto di salvaguardare la tradizione. Alla periferia tante volte viene chiesto di provocare l'istituzione. Penso a chi è partito da Assisi, Francesco, a chi è partito da Lisie, a chi è partito da Siena. Cioè, tante volte la provocazione alla santità arriva dall'estremo. Ora, in te si uniscono questi due estremi. Le Villas Argentine e il centro della Chiesa. La mia domanda è questa. Com'è cambiato il tuo rapporto con la Chiesa, da sacerdote novello, ad oggi che tu sei Papa? Ma non c'è Chiesa senza istituzione, perché Gesù l'ha fatta sui sacramenti, che sono istituzionali. E non c'è Chiesa senza carisma, perché Gesù ha voluto che fosse lo Spirito a portarla avanti. e pensiamo che è sufficiente leggere gli Atti dell'Apostolo, che è la glorificazione dello Spirito, come lo Spirito porta avanti la Chiesa, ma come istituzione. Hai detto la parola tradizione parecchie volte. C'è una frase di un musicista, un grande musico, Gustav Mahler, un mistico. E Mahler diceva così, la tradizione è la salvaguarda del futuro, non la custodia delle cenere. Dalle volte pensiamo che custodire le tradizioni è fare un museo, no? Custodire il museo delle cose e la Chiesa diventa un museo. No, ma la tradizione deve crescere. Deve crescere come la radice fa crescere l'albero per dare fiori, frutti sempre. Noi dobbiamo andare alla tradizione per prendere quel succo, quel flebbo che fa crescere, no? La tradizione è viva, non ti porta a essere un collisionista di cose, di ritti, no? È viva. Ma anche le verità della Chiesa crescono, nel stesso senso. Pensa, per esempio, alle schiavitù. La schiavitù non era peccato. Persino alcuni pensavano che gli schiavi non avessero l'anima, no? Ma poi la Chiesa ha riflettuto, ha riflettuto e ha capito che no, che schiaviciare è peccato. E pensa alla pena di morte che anche la Chiesa la faceva, no? Vai a Campoio di Fiori, no? E oggi nel Catechismo dice che la pena di morte è immorale. Ha sbagliato, no? Il rispetto per la persona, per la natura umana, è cresciuto nello stesso senso. C'è una cosa bellissima, un detto bellissimo di un benedittino, un monaco, almeno teologo del secolo IX, Vincent de Lerine, no? Che dice che le verità devono crescere. Ma è nello stesso senso, come l'albero cresce nel senso della radice, con l'identità della radice, ma cresce. C'è lì un rapporto tra identità e crescita. Cresce, no? E come devono crescere? Dice tre criteri bellissimi. Dice così in latino, deve crescere ottennis consolidetur, dilatetur tempore sublimetur etate. Che con gli anni si consolidi. Si rafforza. Come il tronco. Si dilatta. Che col tempo si dilatta e con l'età, con i secoli sia sublime, va vai più, no? Ma sempre lo stesso, no? Crescere con questo criterio, no? Ma se tu cresci tagliando il tronco, non c'è né tradizione, né una vera crescita. Ma la tradizione è quello che assicura la crescita. Non è il custode delle cenere o il collezionista di cose antiche. Mi viene in mente a proposito di una chiesa che non è un laboratorio di archeologia. Eh no, per favore, no. Mi viene in mente per esempio la chiesa di Brancaccio. Eh. Bagnata dal sangue di Don Pino Polisi. Gli è successa una cosa straordinaria che Don Pino e la sua gente ha fatto capire che il Vangelo aveva senso esattamente lì, no? E che rimanendo uniti si poteva trasfigurare anche questa realtà. Mi è colpito che quando sei stato pellegrino a Brancaccio hai detto la sedia di Don Pino era rotta, ma non importa perché lui non stava mai seduto lì, no? E l'hanno ucciso Don Pino. Significa che aveva colto nel segno. Sì. La comunione che arriva fino al martirio. Il martirio. Il martirio è il sigillo dello Spirito Santo. Sempre. Io mi domando, ci sarà un tempo senza martiri? No. Sarà l'eternità senza martiri. Ma il tempo sempre ci porterà dai martiri. perché il diavolo è nel tempo. Il nemico. L'ingannatore. Il grande bugiardo. Il serpente antico. Il sedutore. È nel tempo. Quando sei stato a Brancaccio hai detto parole pesantissime contro i discepoli, tra virgolette, di Satana, contro i mafiosi. Le associazioni criminali hanno il compito di creare, di rompere la comunione. Sì. E portano un popolo di Dio a fare la doppia vita. La pertenenza alla Chiesa e la pertenenza alla mafia. E ci sono posti dove i cristiani vivono questo dramma. La doppia pertenenza. La confessione che è il canto della fede e l'omertà che è il silenzio della non fede. La sesta verità, Papa Francesco parla esattamente del peccato, dell'errore. Credo la remissione dei peccati. Quando la mattina parto da casa per entrare in carcere, io devo uscire dal centro della città. Perché il carcere a Padova è stato costruito ai bordi della città. E questo a me dice già tanto perché anche da come tu costruisci, organizzi una città, capisci l'importanza delle cose. Chi sbaglia deve essere messo ai bordi. Quindi anche nella Chiesa certe volte qualche situazione che qualcuno definisce irregolare comporta mettere in margine, umiliare anche le persone. Però poi la domenica in Chiesa tutti tranquillamente dicono credo la remissione dei peccati. Non è che ci sia un po' un cortocircuito. Finché rimane una teoria, bene. Ma quando si tratta di perdonare chi è sbagliato, qui la sfida diventa difficile. Credo che la Chiesa Madre col sacramento della riconciliazione ci dice come lei perdona, è capace di perdonare i peccati. Anche ci sono i missionari della misericordia che hanno protestato di perdonare tutto. E anche tutto va avanti. Ma il problema è quando noi, uomini e donne di Chiesa, dobbiamo imitare la Chiesa Madre. Io sono andato a confessarmi, sono stato perdonato, ma poi sono incapace di perdonare. E faccio uno scisma dentro di me. Una parte mia che chiede a Dio mi perdoni. Una parte mia che non sa perdonare. E così comprometto anche il perdono di Dio su di me. Perdona i nostri debiti come noi siamo capaci di perdonare gli altri. È una condizione, è una doppia. Un cristiano che non è capace di perdonare deve chiedere molto al Signore di Dio la grazia di perdonare perché compromette il proprio perdono da parte di Dio. Se tu non perdoni rischi di non essere perdonato. E questa è la grandezza di Dio. Io ti faccio questo, ma tu fai lo stesso. Ti confesso che c'è stata un'evoluzione anche nella mia storia del senso del peccato. Una volta pensavo che il peccato fosse un gesto. Vivendo con i poveri, con la gente che ha sbagliato, ho capito quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Che il peccato non è fare un gesto, ma è rompere l'amicizia con Dio. Che è molto più di un gesto. E mi colpisce perché quando celebro l'eucarestia, quando posso, in carcere noi usiamo la preghiera della riconciliazione. Che dice delle parole che a me fanno esplodere il cuore. Dice, molte volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza. E tu, invece di abbandonarli, hai stretto con loro un vincolo nuovo in Gesù. Un vincolo così forte, così saldo, che nulla potrà mai strappare. E mi viene in mente quello che l'Antico Testamento diceva. Il peccato, mettersi al posto di Dio, strumentalizzare la fede, opprimere il povero. Se li guardo, sono tentativi che ancora oggi sono in atto e nascosti sotto, per esempio, ai vari populismi che ancora imperversano. Il populismo si mette al posto di Dio. Opprime il povero e strumentalizza la fede. Strumentalizza la fede, tre caratteristiche. Dice, fa un culto nuovo alla persona che porta avanti il populismo, il grande sacerdote populista. Noi abbiamo conosciuto, pensa a Hitler, pensa a Hitler, soltanto a quello, è sufficiente. Un grande sacerdote populista. Ma anche il Dio si credeva a Dio. Occupa il posto di Dio. Opprime i poveri. Se non permette la varietà, no? Soltanto sono uomini, donne, questi che pensano in me, non gli altri. Lasciano essi poveri, lascia morire o uccide. E poi crea un culto nuovo, no? I populisti si credono a Dio, no? A me fa pensare tanto Napoleone, no? Che ha avuto la gioia e il piacere di avere un Papa prigionero lì. L'uomo sicuro che si è incoronato se stesso. Poi il Signore ha avuto la misericordia di farle sentire l'umiliazione e morire con buco veraccio in un'isola, no? E forse lì il Signore ha perdonato tante cose. I grandi populisti sono così, pensa Hitler. Un giorno dicesti delle frasi, una frase che mi fece molto pensare. Durante un'intervista dicesti che sentendo certi discorsi, prima, mettere prima noi, gli altri, ti richiamano vecchie canzoni che hanno disseminato morte, menzogna e male dentro la storia. ti capita di pregare perché Dio intervenga a purificare gli intenti, per esempio, di chi ha responsabilità politica. E sì. E i politici, io prego tanto per i politici perché sono uomini e donne che devono lottare ogni giorno per portare il bene del Paese avanti. e hanno tante tentazioni, poveretti, no? Tanta buona volontà. Io credo che tutti i politici hanno buona volontà all'inizio. e poi qualcuno può andare su strada sbagliata. E dobbiamo aiutarli con la preghiera. Perché loro devono custodire il Paese, la nazione, portare avanti la gente, aiutare il popolo che cresca, che sia fecondo, che sia felice, che abbia del lavoro, che la dignità viene dal lavoro e che possa avere dei figli, no? Pensiamo ai politici oggi in alcuni Paesi d'Europa che devono risolvere il problema dell'inferno demografico. Come lo risolvono? È una responsabilità grande che loro la sentono perché è convolto il futuro del Paese. Dico questa responsabilità, pensiamo all'educazione, pensiamo alla sanità, tante responsabilità che ha un politico, no? Noi non possiamo lasciarli da solo. Pensare a cosa che aveva detto Paolo VI, no? La politica è la forma più alta della carità. Aiutarli a che possano portare questo amore nello sviluppo del proprio popolo, no? Della propria nazione, no? Sì, questo soprattutto perché, e questo ce lo insegna anche la dottrina sociale della Chiesa, certe volte l'errore di uno può portare un'internazione nel baratro. Penso, per esempio, alle grandi scelte politiche che magari riducono in povertà un popolo. Oppure nel più in piccolo, io che sono figlio di un papà che ha perduto il posto di lavoro, penso a certe scelte azzardate, per esempio di qualche impresa, che poi mettono in disoccupazione tantissime persone. E ti dirò che mi ha colpito moltissimo quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica sul peccato sociale. Dice, è immettere del male dentro la società. Ora, tu chiedi sempre di pregare per te, ma io sono convinto che il Papa prega per l'umanità, ci credo. Qual è il peccato sociale per il quale tu parli di più? Il peccato sociale non è isolato mai. È sociale. E ha tante strade, tanti rami. E uno porta l'altro, no? Per esempio, il peccato sociale di non custodire il creato porta alla povertà della gente. È tutto collegato. Il peccato sociale non puoi dire, io ho fatto soltanto questo peccato sociale. Per esempio, ho accettato soldi, mi sono stato corrotto. Ma questo è un affetto. Questo significa che forse ci saranno famiglie che non avranno da mangiare, non avranno le medicine per questo fatto di corruzione, no? Per questo non si può individuare, no? Si si può dire genericamente, io dirò che lo spirito di corruzione è una delle cose più brutte, no? Il peccato sociale. Mi diceva un dirigente di un'impressa molto importante, multinazionale, parlando di un paese. Quando andavano là, perché dovevano chiedere il permesso per fare nuove installazioni, si si, il ministro dovevano avere permesso da due o tre ministeri, il ministro si si lascia tutto e quando torno? Ma entro quattro giorni. Andavano dopo quattro giorni e c'era l'autorizzazione. Questo è storico e me lo ha raccontato una persona, un imprenditore. Avevano tutto il permesso e si portava avanti la cartella e quando stava per andarsi il segretario, che non riceveva il ministro non segretario, questa volta, la prima volta sì, la volta il segretario, diceva e per noi quanto? Direttamente. Un'abitura. Un'abitura. E quando le cose si abituano a fare così. E a proposito, per chiudere il tema del peccato, ai tuoi confratelli in Mozambico, hai detto una frase che mi ha molto colpito. Dici, ci si concentra sul sesso e poi non si dà peso all'ingiustizia sociale, alla calunnia, ai pettevolezzi e alla menzogna. E lì mettevi un criterio. Dicevi che qualcuno ti ha insegnato che più i peccati sono angelici, più sono gravi. E meno sono angelici e meno effetti devastanti certe volte hanno. È curioso questa... Questo un bravo sacerdote una volta mi ha detto, i peccati più gravi sono quelli che hanno più angelicalità. E la superbia, l'orgoglio, no? Meno gravi sono proprio. E c'è stato un tempo della pastorale che c'era una morale ma troppo troppo fissata sui peccati carnali, no? E faceva dimenticare l'altro, no? Ogni peccato è grave, può essere grave. Ci sono piccoli peccatini che non sono gravi ma... Ogni peccato sia dalla carne sia dallo spirito che può essere grave. Ma dove metto l'accenno io, no? E' un termine che oggi spesso dentro la chiesa, arrampicatori. E' un peccato sociale questo? Peccato sociale. Anche purtroppo tante volte clericale. Mi fa soffrire quando vedo una persona di chiesa sia sacerdote sia laico, arrampicatore. Mi fa soffrire perché usare tua madre, la madre chiesa, per te, è rubare la tua madre. Una volta mi diceva una signora, il figlio aveva lasciato il sacerdozio, era un momento difficile, non trovava lavoro e si alzava presto per andare a cercare lavoro. Lei sentiva che nella stanza dove c'erano i soldi della famiglia il rumore di lui con le monete che prendeva di nascosto gli faceva soffrire, no? È sempre bello questo rubare alla madre per farsi grandi. Era più grave questo perché quella signora me lo diceva perché era venuto a sapere che il figlio comprava droga, rubava la madre per la droga. La settima verità, Papa Francesco, è forse la più grande e anche la più difficile da comprendere. Credo la risurrezione della carne. Al mio paese, un paese piccolissimo, c'è un crocifisso del 1400 ai cui piedi si inginocchiano chi crede, chi non crede, anche chi bestemmia certe volte. Io quando prego come Marcellino Panevino penso che quel volto custodisce i segreti della fede della mia terra. Solo che è molto particolare quel Cristo perché non ha il volto straziato come ci si aspetterebbe ma ha la serenità, quindi è il crocifisso che si sta preparando a risorgere. Quello che diceva Eugenio Montale, la morte odora di risurrezione. Noi alle brutte previsioni ci crediamo subito, ma credere che la nostra vita finirà nella bellezza è sembra una cosa difficilissima. Tant'è vero che tanti si dicono cristiani ma hanno forti dubbi che un giorno noi risorgeremo. Io penso a tanta gente, pensiamo a uno che ha avuto un incidente e ha una ferita nel braccio. Non si può togliere quella ferita, la cicatrice è rimasta e cerca di coprire perché non si veda, no? Perché non può credere che quella ferita sia un'espressione anche di realtà bella, no? Una ferita di guerra è una ferita bella perché parla di coraggio, di rischiare la vita, no? Ci sono ferite e ferite, no? C'è anche la decadenza della nostra salute, della nostra bellezza naturale, no? Io penso alla Magnani quando hanno voluto togliere le rughe. e ho detto, no, no, lasciateli come stanno. Ho tanti anni, ho spento per averne, no? E poca gente è capace. Noi cerchiamo sempre di coprire le cose brutte e ci siamo abituati a coprire, ma non credere che loro hanno una bellezza e che sono una promessa. e con la resurrezione è lo stesso, no? Sì, andiamo, facciamo la sepoltura, preghiamo per i morti, andiamo a pregare lì. La resurrezione. E Paolo ha una parola forte, no? Se non c'è la resurrezione dei morti, la nostra fede è una stupidaggine. Se la nostra fede è viva, quella che tua nonna ti ha trasmesso, è perché lei credeva che c'è la resurrezione. E lei, perché credeva, è viva adesso, lei contempla Dio. Domandale a tua nonna se è vero e lei te la dirà. Parlare con i defunti, parlare con i nostri antenati, ma dimmi tu dove stai? Dove sei? Perché c'è la prima resurrezione, no? E poi c'è l'universale di tutti. Ma coloro già sono davanti Dio, no? Ti confesso che tante volte ci penso alla risurrezione, ma non c'è un istante più grande di quando celebro il funerale che percepisco la forza d'urto della risurrezione. Poco tempo fa ho celebrato il funerale di mio zio e io scelgo sempre un prefazio dove dentro c'è una frase che per me mi mette il sorriso quel giorno. Dice ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, è trasformata. Allora, io so che non risorgerò con queste ossa, so però che rimarrò me stesso in una maniera un po' diversa. Questa cosa qua mi dà tanta pace perché mi fa capire che niente di tutto quello che ho costruito con Dio qua giù andrà perduto. No, il diavolo può portare via tutto eccetera la mia amicizia con Dio. Bella questa trasformazione, non è tolta. Un tempo la Chiesa vietava di bruciare i morti, la cremazione. Perché? Perché i nemici della Chiesa dicevano che bruciando i corpi si provava che non sarebbe stata la risurrezione. E la Chiesa dicevano che non si può, ma lascia bruciare. Non è un problema fisico, di quantità, di mensura. È un problema della carne spirituale, della carne nostra, della carne trasfigurata. E la carne, la Madonna è corpo e anima lì. Gesù è col suo corpo, anche con le piaghe ha voluto portarle. E noi saremo così? Ma come la carne è la carne trasfigurata, diciamo così. Non è la carne trasfigurata. Per il momento c'è questa resurrezione dei nostri che sono andati e che sono vivi. E per questo ti ho detto che è buono domandare alle persone che ci hanno insegnato, trasmesso la fede. Ma come stai? Dimmi. Tu fai questo? Ti dirò che mia nonna gioca d'anticipo. Perché ci sono delle volte in cui prima di qualche scelta da dover fare, di qualche incontro, la nonna viene lì e mi dice guarda che succederà questo, fai questo. È come se arrivasse prima. In questo senso capisco che è il braccio operativo. E tu le dici vai al tuo posto a non disturbare. È così rassicurante che questo mi fa credere anche nella comunione con i fedeli. C'è la presenza. Ma Francesco, è vero che nessuno ha mai visto un morto risorgere. Però è anche vero che noi ogni giorno vediamo delle storie, hai citato tu stesso, vediamo delle storie che pensavamo morte che si sono rimesse in piedi. Io sono affascinato per esempio da un punto di vista sportivo, dagli sport paralimpici. Atleti in carrozzina che giocano a pallacanestro che è una maniera incredibile. Io da Veneto faccio fatica a credere nella risurrezione dei morti, ma perché è distante da venire? Il Signore mi ha messo in carcere e mi fa credere nella risurrezione dei vivi. Intanto credi questo. Così ti allenerai a credere un po', no? Ora, potremmo dire che c'è una forza dentro la storia che a volte lascia basiti, una forza di ripresa, e che in un certo senso, come direbbe Paolo, è una caparra della risurrezione finale. Cioè, un piccolo anticipo quasi per dire, guarda che più o meno sarà una cosa del genere, cioè riprenderemo vita. A me colpisce la forza che c'è nascosta dentro la storia di chi pensavamo fallito. È vero. La propria risurrezione, no? Gente che cambia così. Che noi nella propria vita abbiamo quella esperienza parziale o totale, non sappiamo. Ma tu l'hai, io l'ho. Tutti abbiamo questa esperienza di parziale risurrezione, diciamo così, no? Di aver cambiato vita in questo punto, in questo e l'altro, in questo e l'altro. Tu hai parlato di caparra, ma c'è l'imago classica della speranza, no? La speranza è l'ancora, no? Tu lo butta lì e prendi la corda. Se noi abbiamo le mani sulla corda della speranza saremmo su una buona strada, no? E la speranza non delude, eh? Come diceva la Turandot. No, non delude. Lei pensava che deludeva. No, non delude. Perché qualcuno ama confondere la risurrezione con la reincarnazione? Sono due cose opposte. No, niente a vedere. Sì, è una confusione forse di non capire bene, no? No, davvero, la risurrezione non è la reincarnazione. La reincarnazione è un rincominciare, no? E i motivi sono tanti. Per esempio, uno dei motivi sono i ricordi, la memoria ancestrale. La memoria delle cose che io non ho vissuto, ma ho memoria, no? E dico, questo come viene? Ma c'è una memoria ancestrale dell'umanità che si trasmette? Non è la memoria mia di un'altra vita vissuta prima. È la memoria della storia. Noi portiamo la memoria di un popolo che va, trasmessa dai noantenati. Loro ci hanno trasmesso una memoria. Tante volte ti hanno raccontato cosa dei suoi papà, dei bisnonni, questi. Il popolo li ha dimenticato, ma quella memoria... C'è la memoria storica, la memoria di un popolo. I popoli hanno memoria. I popoli hanno memoria. I populismi cercano di togliere la memoria ai popoli. Il popolo è sovrano in sé stesso come popolo. Si esprime in sé stesso come popolo perché ha memoria, ha una capacità di valutare, ha dei valori nel cuore. E questo non perché quella persona abbia vissuto prima un'altra vita. No, è la memoria di un popolo che trasmette una storia, una memoria storica della nostra pertenenza al popolo, ci porta alla memoria. Anche noi cristiani abbiamo la memoria dei santi, di tutto il popolo di Dio. E nell'Eucaristia celebramo la memoria della passione del Signore, no? E confondono questo, no? Ma credo che vengano queste idee, no? E poi altri argomenti, ma siamo tanti. Meglio che rifarsi per non fare tanto numero, no? Non so se è vero questo argomento, no? Ma è una confusione. Ma anche è un modo di togliere trascendenza alla propria vita. Perché se tu entri nel circolo, nel circolo della reincarnazione, tua vita sempre sarà immanente, non avrà trascendenza. O avrà una trascendenza storica di qui, ma no? Quella che va oltre, no? E lì viene quello di Paolo, no? Tua vita sarà una stupidaggine. L'ultima grande verità per la quale il cristiano dice vale la pena credere. Credo la vita eterna. Ti dirò che Papa Francesco mi affascina tantissimo leggere le scritte che trovo nei muretti, nei sedili degli autobus, un po' dappertutto quelle che lasciano i ragazzi e tante volte mi colpisce il senso di eternità che c'è dentro, no? Scrivono per sempre, forever, finché la morte non ci separe, finché il cielo brillerà, no? E poi penso per esempio anche alle fondazioni di beneficenza che delle persone fanno, no? Per cercare di continuare a vivere nella memoria anche dopo morte. Cioè in chi crede e anche in chi non crede c'è la voglia pazza di non pensare che tutto finisce con questa vita qua. E quindi il cristianesimo ci insegna che noi ci giochiamo qui l'eternità per poi arrivare a quel giorno e ci sarà il giudizio. Ora, a nessun uomo piace essere giudicato dagli uomini, figurarsi un po' da Dio. Che tipo di giudizio è quello che ci aspetta un giorno e che Michelangelo ha dipinto con tocchi di una bellezza unica nella Cappella Sistina? Io non so perché non sono stato mai in una prova del giudizio universale. Non ho visto alcuna prova. Ma come penso che il Signore mi giudicherà con gli altri, no? Ma penso un abbraccio, no? E mi dirà, ma sei stato fedele fino a qui, qui non va. Va bene, facciamo festa perché sei arrivato, no? So che il Signore mi perdonerà gli sbagli. Sono sicuro. Perché lui ha un difetto. Dio è difettuoso. Zoppica. 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 Il defetto di non poter non perdonare. E la malattia è misericordia. Lui è ammalato di misericordia. E non può non perdonare. Se tu vai e abbassa gli occhi, verrognato, basta quello, no? A me piace pensare questo. Io non penso al giudizio universale come un bilancio. Ma guardi che cosa ho fatto, questo, ho fatto quello, quello, quello. Io penso avvicinarmi sedotto di quella bellezza nel tramonto della vita è vergognato, la testa guardando in basso, sentire l'abbraccio e poi guardarlo. Non sarei guardarlo senza l'abbraccio. Non so, così penso io, questo era il giudizio. Ma forse sono fantastie, ma io la sento così. Mi viene in mente che il giorno del giudizio si aprono tre strade. C'è il paradiso, c'è il purgatorio e c'è l'inferno. Mentre parlavi, mi tornava alla mente una frase di Charles Péguy, un poeta che so, che è anche nel tuo cuore oltre che nel mio, che scrive così il giorno sulla risurrezione di ogni uomo corpo e anima saranno due mani giunte in eterna adorazione o due polsi ammanettati per una cattività eterna. Ora partiamo dal paradiso, che come dice la scrittura è il luogo che Dio ha preparato per coloro che lo amano. chi è Papa Francesco che abita dentro al paradiso? Non è un posto, no? È un stato di vita e di contemplazione, no? Il paradiso è vivere in questo stile che mi fa contemplare Dio, la Madonna, la gente in pace. è gioia, è la gioia, no? È quello che noi stiamo cercando ogni giorno, no? La gioia, la felicità. Ma davvero per entrare lì basterà aver dato un bicchiere d'acqua a chi aveva sete? Io ci credo. Perché i bilanci di Dio sono bilanci non aggiustati. C'è un consiglio di amministrazione strano per fare il giudizio finale. Lui la pensa diversamente. Perché è malato? È malato di misericordia. Questo non lo dico per incoraggiare a pecare la gente, no? Perché la gente pensi e pianga di avere un Dio così tanto grande, tanto bello. Tu pensi che tuo papà è malato, ti avvicini e lo ami di più? E lui è malato di misericordia. Forse domani un teologo farà la denuncia di Eressia, perché dico questo. Uno più, uno meno. Ma mi piace pensare a mio padre così. Come quello della parabola. Che lui, dice il Vangelo, vive il figlio da lontano. Perché? Perché saliva tutti i giorni al terrazzo per vedere se tornava. Così è il nostro padre. E lì nelle vicinanze del paradiso c'è questa bellissima immagine. C'è una donna che ogni tanto tiene le porte aperte del paradiso. Che vuole c'è Maria? Che Dante lì ieri l'ha messa lì, no? Gli ha dedicato parole bellissime attraverso San Bernardo. C'è la leggenda dei ladri, no? Della Calabria, no? La leggenda della Madonna dei Maradini. È una leggenda un po' erettica, no? Ma dice che quando i ladri sono arrivati lì e arrivano lì e si hanno fatto qualcosa di buono e sono alla coda per entrare, e la cosa di San Pietro e la Madonna dalla finestra le fa segnare di nascondersi. Perché San Pietro non le farà entrare. È l'intercessione di Maria questa. L'intercessione. E poi quando nel buio le apre la finestra le fa entrare di contrabando. la Madonna è la Madonna di Canna, no? Ma non è arrivata l'ora, no? Fate quello che vuoi dire. Quello che ha fatto a Canna lo fa lì. Lo sta facendo adesso. Le parla al figlio di noi. Di ognuno di noi. Quando tu la preghi, lei parla al figlio. Lei non può fare nulla. Soltanto parlare al figlio. Guarda quello. Gli manca il vino. Come ha fatto a Canna. Mi piace molto che tu Papa Francesco abbia detto che il paradiso e il purgatorio dell'inferno non sono luoghi geografici. Sono stati di vita e di rapporto con Dio. E grazie a Dio, no? Che non sono posti geografichi. È un'altra cosa. Però, pur non essendo un posto geografico, all'opposto del paradiso c'è l'inferno. Ora, sull'inferno circolano dieci milioni di interpretazioni. Una cosa è certa. Che Dio non predispone nessuno che vada all'inferno. Ma ci va all'inferno chi rifiuta l'amore di Dio. Quel peccato contro lo Spirito Santo che non sarà mai perdonato. Questa è una certezza. E la seconda certezza è che all'inferno una persona c'è. Perché quella è la cittadinanza onoraria di Lucifero. C'è il male. Tutto il resto è misericordia di Dio. Noi non sappiamo se ci sono alcuni che sono rimasti chiusi fino alla fine, alla fine, alla fine. Non sappiamo. Non sappiamo. Tanti personaggi storici bruttissimi, ma non sappiamo. Non sappiamo perché Dio è ammalato da misericordia, ma anche è giusto. E se tu le apri il cuore, lui non può fare nulla. Quella malattia non può. Se tu nella vita hai preso il vaccino contro la misericordia di Dio, è finita. almeno un guardare. E così va. C'è un aneddoto che non è di fede, è un racconto popolare. Si dice che Giuda, prima di impicchiarsi, è andato a cercare la Madonna e non l'ha trovata. E mi piace pensare questo, no? Perché questo mi dà fiducia di avere la madre, no? E anche questo è una delle delicatezze di Dio, no? La madre. Tante volte nella vita, nel momento difficile, andiamo dalla mamma a dire le cose. Sì. Papà no. Forse abbiamo paura. Ci fa riguardi. Diamo dalla mamma e non le diciamo le cose come sono state, ma lei capisce. Tornare alla tenerezza, no? E Dio si fa vedere tante volte come madre, no? Quando ci dice, ma come ti avandonerò? Una mamma può avandonare il figlio? Io no. È più di una mamma lui, no? E così come è ammalato di misericordia, anche è una debolezza. Ha una debolezza. È una malattia la misericordia di Dio. È una debolezza la tenerezza. È una tenerezza di madre. E lei è il simbolo della tenerezza di Dio. E lei è la madre che ci aiuta e ci porta con tenerezza a Dio, no? Lasciate carezzare dalla Madonna. Tante volte dico questo. È la tua madre. Pregala, guardala. Lasciati guardare da lei. E lei ti farà entrare nel paradiso, no? Come questi mandarini che dicono questa favola. Ma ti farà entrare da madre, no? E la cosa che mi incuriosisce moltissimo, forse anche per una consapevolezza della mia storia con Dio, è il purgatorio. Ti confesso che solamente in questi ultimi anni ho capito che il purgatorio non c'è niente a che fare con l'inferno, ma lì ci sono delle persone che già intravedono il volto di Dio, sono sulla rotta di Dio, sulla strada di casa, ma manca qualcosa per ottenere la santità che è necessaria in paradiso. E forse questo è anche il senso di quando la gente semplice del paese va ad un sacerdote e dice celebra una messa per un defunto. No, è quasi dire attraverso le pariere ti aiuta ad andare, ma nel paradiso c'è speranza però. C'è speranza. Scusami, nel purgatorio c'è speranza? C'è speranza. Ma il purgatorio anche non è un tempo, perché nell'eternità non c'è il tempo. Tu sei condannato a due anni di purgatorio, ma cosa significa? C'è un altro tempo lì. Benedetto XVI, un grande teologo che ha spiegato bene cosa è il purgatorio. E' un momento di purificazione nell'amore, che si purifica nel momento dove ancora c'è il tempo. E' un passaggio dalla morte alla vita eterna. E' una cosa... non è una grillata che ti fanno lì per purificarti, no? E' vero che Gesù parla dell'inferno, del fuoco, no? Torno all'inferno, ma è il fuoco della disperazione di coloro che hanno respinto Dio. che hanno detto non voglio niente con te. Quel fuoco dell'odio, quello che è Satana. Il fuoco di Satana è quello dell'odio, no? Della bestemmia che ti brucia. Anche c'è il fuoco della purificazione, ma... E' bello leggere quello che Papa Benedetto dice sul purgatorio. Ci aiuta tanto. Papa Francesco, grazie. Grazie di continuare a confermare me, la mia gente e tutto il mondo nella fede. Grazie a te per il tuo lavoro e la tua testimonianza. Grazie. Grazie. La porta della chiesa quella sera era rimasta spalancata. Da dentro, Don Camillo vedeva la piazza annegata con un cielo minaccioso a fare da cornice. Erano i giorni della grande alluvione nell'anno 1951. La gente, radunata nell'altra sponda del Po, guardava fissa il campanile. Fratelli, esordì il prete di Giovanino Guareschi, le acque escono tumultuose dal letto del fiume e travolgono tutto. Ma un giorno le acque torneranno placate nel loro alveo e ritornerà a splendere il sole. Se alla fine voi avrete perso ogni cosa, sarete ancora ricchi se non avrete persa la fede in Dio. Chi avrà dubitato della bontà e della giustizia di Dio sarà povero e miserabile anche se avrà salvato ogni cosa. Credo, dunque resisto. Amen Grazie Grazie Grazie